a rubi ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivà e benvenuti in questa nuova trasmissione ciao ragazzi è un bello vestito tutto di nero sei tutto il romanito relax che dici tutto a posto bene bene sempre stanco e live però dice un po allora come come sta procedendo mentre aspettiamo simone il progetto rubino come sto periodo tosta no c'è nel senso sto fa un sacco di cose poi voi raccontate pure off ne posso dire che sono private però sto fa tipo la tua collaborazione con l'ele mora l'ele mora voglia grandissimo maestro con le legolli si capirà sono contento ma infatti io te vedo sto periodo veramente stai bello bello esplosivo rubino veramente regà lavora per due no ma sto bello perché mi piace fa sempre cose nuove quindi sempre reinventamme mo sto fa' una cosa che mo sto fa' una cosa che secondo me è strafiga per dica la verità me li potrebbe fa' un boom però a causa covid ancora non la posso portare ok abbiamo passato un po' il mic sì perché c'era c'era Parenzo con la mascherina grazie benedetta ragazzi vi ricordiamo che anche in chat i moderatori metteranno costantemente il link per votare ai boscar 2022 finalmente comunque a grande sorpresa la categoria vip la sta vincendo il ducci non mi sembra soprattutto perché non credo sia all'interno della categoria vip al massimo scoperta ma il vip vip dici al ducci era forte era forte era forte il ducci io lo vedevo sempre simpatico serio al momento giusto ma simpatico vabbè ma a livello diciamo di programmazione come stai messo just chatting gta sì sì just chatting gta e poi vabbè ogni tanto quando ci riesco faccio fifa e poi ho messo il format quello che comunque è paranormal rubiniti a proposito dei paranormal io prima ti ho visto con dei guanti bianchi del lattice c'è parità due dubbi sì devo un attimo estrarlo allora raga comunque voi non lo sapete ma gialluca è stato attaccato anche con body shaming da chi da parte di una ragazza credo allora una live di un po' di tempo fa abbiamo commentato uno dei tanti tiktok perché body shaming me puoi fammi e mo vedi un che sinuetto chitano mi inquadri ma non lo vedi che sinuetto che sinuetto che sinuetto allora dicevo uno dei tanti tiktok commentati credo uno dei protagonisti di questo tiktok ha visto la live vediamo un attimo reaction grazie la cosa più cringe che è successa oggi c'erbero podcast insulta siamo ragazzo sapevo che erano cringe ma non pensavo così tanto ragazzo è sarda è sarda è sarda è sarda ok sapevo che erano cringe ma non pensavo così tanto ok oltre ad essere incel attenzione questa è un'accusa sono anche ignoranti perché non è la shvah è uscita una canzone che utilizza la shvah ok siamo ragazzi è il nuovo inno della gen z gialluga ma invece erano sardi erano semplicemente sardi noi pensavamo che fosse noi pensavamo che fosse una canzone sulla shwa invece erano semplicemente sardi semplicemente dei sardi anche discriminazione regionale abbiamo fatto beh un po' si un po' si questa è applicata per lo shvah secondo me secondo me anche comunque vediamo questa canzone vada nel dimenticatoio più presto possibile boh regà detto con questa mascherina fa troppa paura ragazzo che io faccia paura a te quindi questo implica il fatto che tu venga respinta per me è solo che è una gioia ok toppo volanski è tutta avvicinata alla camera allora Simone non ci hai seguito immagino questa ragazza si è molto arrabbiata perché abbiamo commentato un tiktok e allora ti sei perso anche il favoloso dissing di Rubino ai tuoi danni ma noi non vogliamo far arrabbiare le ragazze la cosa più cringe che è successa oggi c'è il proprio podcast insulta siamo ragazzi sapevo che erano cringe ma non pensavo così tanto poi con sta foto vabbè oltre ad essere incel sono anche ignoranti perché non è la chuvà cioè sono semplicemente sardi in realtà è uscita una canzone che utilizza la chuvà ok siamo ragazzi è il nuovo inno della Gen Z Gianluca siamo ragazzi no vabbè no io non ho pari questa canzone vada nel dimenticatoio più presto possibile siamo ragazzi andatene pure a fancura non c'ho da fan cazzo non so che cazzo sto fanno sei un ragazzo ci stoccavi in cazzo ma io bella non ci stoccavi in cazzo non ci stoccavi in cazzo ma proprio ride ma lei fa proprio ride però siamo simpatici comunque ma lei è amo ma tutto ok sto facendo fatica a capire se è ironico o meno raga vi dico dove si vede ah non vuole farci pubblicità giustamente lei fa mettere in posto profilo un attimo proprio lei non fa pubblicità non facciamo no 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 vabbè è quasi 10k ok non vi dico ma non perché sia un fattore discriminante per capire diciamo la mole di views non vi dico è preoccupante proprio quello che rappresentano le sue parole non vi dico dove si vede perché non dobbiamo dare views a sti cheese het cheese het cheese hetero cheese het ma non rompe il cazzo comunque sei in cheese hetero ma sti cazzi sono pure in c18 non mi frega un cazzo ma dai ma non dobbiamo dare views a sore al limite sei c15 ma basta con queste stronzate però ruby possiamo dire perché gli servono le views o due a sore basta hai rotto il cazzo punto andiamo avanti ruby possiamo dire una volta per tutte che tu sei un super hetero io sì io sono super hetero non so se hai seguito recentemente che stavamo a dire il fatto di andare a letto con ragazze trans e tutto ormai sono viste come ragazze quindi il problema non sussiste più però voglio dire a te tu vedi una ragazza trans come un'altra qualsiasi ragazza e ci andresti anche a letto allora per rispetto io ho già messo espresso su sta cosa dico la verità sulla transfobia no sulla transfobia allora tu sei transfobico io no tu ruby no perché ridi vabbè lasciamo perdere perché che sei vabbè lasciamo perdere andiamo avanti che ne pensi della transfobia allora io mi so mi so espresso già su sta cosa dicendo eh sulla transfobia Simone oh no questa cosa cosa sul disco Marra sei transfobico Marra sì vabbè allora l'ho detto l'ho detto prego ruby la domanda è già Luca nel senso tu andresti mai con una ragazza trans io ti dico la verità mi prendo tutta la piena responsabilità quello che dico no ma no perché è una scelta mia come mai è una scelta mia e per rispetto cioè allora se io vado con e ho capito io lo ammetto ho un blocco cosa ti devo dire è una cosa mia ma si può superare questo blocco allora nessuno mi può imporre di andarci capito perché è un mio blocco mentale infatti parlavamo di questo parlavamo non è assolutamente cioè non è che sono transfobico però è un mio blocco mentale che non riesco a superare ma c'è sta secondo me se poi io supererò questo blocco perché la live parlava di questo per quale motivo si parlava dell'altra volta si parlava di quale motivo secondo noi si cresce con questo blocco la cosa viene portato scavando all'interno di noi la risposta è unica per tutti quindi quella che si diceva della società che ci ha portato a pensare questo oppure è altro noi parlavamo di questo perché uno inizialmente potrebbe dire un gusto già direi che è un blocco si presume che c'è qualcosa che è stata bloccata per l'appunto invece se uno dice un gusto è così e basta invece un blocco si può sbloccare si può cambiare pure di questo si è parlato allora io sono molto aperto mentalmente ti dico la verità però come dici tu magari questo blocco si può superare ma magari anche no certo poi può essere anche un mio gusto personale ok allora andiamo avanti comunque raga non vi dico dove si vede perché dobbiamo dare views a sti c set comunque dura letteralmente un minuto perché il loro modo di argomentare il disgusto è imitare le capacità linguistiche di un uomo primitivo era quella la gag te so sì era proprio quella è un suono culturale che ricorda gli uomini primitivi vogliamo fare un disegnino anche la vagnetta a me dà fastidio sta cosa non dobbiamo dare views è un po' fastidiosa sì attenzione attenzione raga scherzi a parte ma sto cucciolo che vuole imitare salmo nel 2011 fa troppo pena cuoricini spaccati ma che vuole imitare salmo ma che ne so scommetto anche che nel tempo libero fa zoom bombing nelle conferenze femministe che vuol dire zoom bombing guarda se zoom significa inquadrare e stringere bombing quello che penso io non lo so che significa è la prima volta che lo sento forse si intende io non lo so do bomber no è appunto entrare in una live di zoom in una conferenza di zoom e rovinarla cioè rovinare quello che abbiamo fatto da prima una con di zoom sì esattamente quello che fa Simone quando gioca bombino tu faresti volentieri bombing con qualche femminile ma io qualcuna me la bombing la domanda no tarik du ferre tarik du ferre l'hai fatto effettivamente zoom bombing zoom bombing stream yard bombing pure discord bombing la domanda maggiore ma ti sei incazzato Grambaud eh dici un po' io ci ho parlato che ti ha detto io ci ho parlato questo lo sa nessuno però lo dico adesso oddio ma contestualizziamo parliamo dell'incursione cerberesca l'altro giorno da Grambaud lui mi ha detto che guarda lui stava totalmente nel chill mi ha detto non gli ha dato fastidio ma io ci ho parlato in privato ha detto a me non mi ha dato pure a me ha detto questo stavo totalmente nel chill e infatti mi ha detto poi che ha parlato con te ha detto no io stavo totalmente nel chill vabbè era la chat che fomentava la cosa mentre lui stava totalmente chill però in effetti se la chat inizia a scrivere tutte cose è vero che te agiti ma a me mi hanno detto il primo traditore come se avessi fatto ma è pochi ma il traditore di che ma è il contrario è vero cazzo ma mica traditore ma per i motivi sbagliati ma il traditore me l'abbiamo concesso cioè ma che davvero ma due tre persone poi alla fine no ma ci ho parlato non gli ho dato più niente sono piccoletti sono ragazzi stavano molto molto nel chill vabbè ma ci avranno ma ci avranno ragione pure quelli ogni tanto massacra ma sì vabbè comunque ok ma qua che stai no ma non è un video non c'è un cazzo vabbè D A sono ragazzi HZ J X H J A diok sono gli effetti collaterali di quella mascherina me sa tipo perdi capacità di parlare non gli arriva l'aria al cervello al cucciolo ecco allora queste ultime due cose che ha detto le ho sempre avute ma non so per la mascherina io non lo vedo è scritto un po' giallo su giallo praticamente un po' una scelta aspetta aspetta sali un attimo in chat Marco scusami ci hanno spiegato una cosa comunque no no comunque cheese hat vuol dire tipo cheat shit ovvero cheese merda ah bene ottimo la merda cheese ok è assurdo che si sia offesa proprio per quella cosa lì vabbè quello che vuole ma che per me è una rana questa vabbè ma scusa se ti metto lo stesso livello che insulta se hai messo lo stesso livello è una rana non stavamo non stavamo insulta a loro tra l'altro era la classica gag è un gioco ma non stavamo insulta a loro comunque sapendo sul personale cosa fanno nel tempo libero ma sta proprio avvelenata cosa fanno nel tempo libero questi cheese hat vediamo se c'è preso cock rating questo un po' si si è certo che lo facciamo questo si a fine live ce li ispezioniamo a vicenda e ci diamo un voto c'è qualcuno che lo fa no tutti i giorni Marco a fine di ogni live ma che non ti ricordi o non ogni ogni live suona come una molestia perché l'avevo scordato Marco forse ma ti diamo sempre i voti altissimi forse dovresti controllare prima l'acqua che bevi da quella bottiglietta nefi quando mi addormento quelle due ore tra la prima e la seconda live da quella bottiglietta nefi allora cock rating si si guardano su youtube gli highlights di Cristiano Ronaldo no tesoro no calcio il calcio no manco il beer no no questo no hai proprio sbagliato target non siamo gay quindi questa è la domanda proprio facile da non premere imparano a memoria i discorsi di Jeff Bezos beh un po' si perché comunque il nostro capo il nostro capo il nostro capo assoluto vabbè io ho guardato una serie su Netflix che si chiama come diventare un dittatore diciamo che non c'è all'interno Bezos ma hai seguito anche come diventare un ditto quella scritta e diretta da Dario Moccia Dario Moccia era sì Dario Moccia sì sai no perché mi hanno detto che non vale un cazzo quindi della gina non avevo alcun dubbio magari come soldi dittare un ditto e poi D usano tua mamma come insulto no quello è blu sai che stranamente no mo che ci penso effettivamente no non è mai e dico mai strano nel mio avverbe insultare le mamme ma che è tu madre c'è veramente le scuole medie te lo dici Rubico ogni tanto quando hai cazzo di GTA tu madre no a me mi hanno detto cioè stranamente non ci ha preso guarda su GTA guarda ci potevi prendere con tutto ma no ma tu madre sì ma non è quello è più stile bluresco sì ma sì ma l'abbiamo visto l'altro giorno guarda che era difficile sbagliare sugli insulti c'è questa rana non so come ha fatto a sbagliarsi perché io penso che insultiamo in talmente tanti modi particolari io risponderei cock rating A beh sì la risposta A sì cliccaci scusa dovremmo rispondere a sonda no non si può da qua ci dite ragazzi no non gli diamo use facciamo duemila storie no no allora raga vi prego facciamo una live con i Cerberi dove istituiamo come nostra portavoce Lucrezia Bones sarebbe il mio sogno Amoli Asfalteresti va bene vieni stiamo cacando sotto facciamo una case con lei e con e con Lucrezia non so chi sia né lei né Lucrezia ma dal fatto che noi siamo aperti al dialogo con chiunque prego vorrei venire pure io e dire visto che sono contrarie a alcune cose nostre dopo il contraddittorio il contraddittorio è la chiave quindi prego comunque vorrei dire una cosa signorina come si chiama Anna attento Rubino senza masconità tossica no ok facciamo mensplaining la gamba va bene sì così una cosa molto no perché mensplaining però controllavo anche la gamba per il mensplaining capito perché uno deve stare attento mi hai appena fatto mensplaining sì però non vale uomo ma proprio un'antichietta comunque non è cerberi ma è cerbero perché è un animale mitologico a tre teste ma una cosa piccola per il dettagliero hai fatto benissimo al massimo i cerberi possono essere gli spettatori i cerberini però lei si rivolge a noi quindi Rubino ha perfettamente la giusta sì sono d'accordo sono d'accordo no vabbè è solo questo raga gli incel sono troppo stressanti ho bisogno di ma Rubino non è una premessa per un discorso quello che hai appena detto non stai a fare no no era solo un piccolo dettaglio per ah ok avevo capito malissimo ma perché incel da quando ci date degli incel boh ma da quando magari io non lo so voi no ma ci hanno sempre attaccato gli incel in realtà ci odiano a parte sta battura di merda no non siamo in al massimo dei blu pillati black pillati dai black proprio vabbè scusami io punto sul nero in effetti tra i due blu pillati significa che siamo dei normaloidi che non abbiamo capito un cazzo che diciamo che basta essere se stessi è vero siamo blu pillati il carattere siamo blu pillati perché diciamo lavorate su voi stessi insomma quelle banalità esatto vabbè Anna comunque accettiamo assolutamente il confronto senza problema alcuno ok oddio ma che è sta cosa di nuovo no non c'è credo di nuovo aspetta aspetta questo lo volevo prego prego vediamo che è una persona molto cara a Rubino per continuare la saga dei grandi contenuti di Anthony di Francesco qualità qualità aspetta aspettate ma si può vedere sotto lo schema vabbè ma si capisce se capisce uguale vedo lo schema oh grazie Anthony ma lo sai che in realtà che ne pensi Rubì che ne pensi lo sai che in realtà questo che fa lui tu vedi così dici oh che video del merda siamo d'accordo ma in realtà e pensi che video del merda c'è una metafora dietro però in realtà lui sta facendo una cosa sta facendo un tipo di comunicazione perché quando lui non parla facci caso perché Kaby Lane ha avuto successo perché è un tipo di comunicazione che prende tutti capito prende tutte le lingue quindi lui sta cercando di riportare questa cosa questo tipo di comunicazione che può comunicare con tutto fallendo miseramente sarà per questo che è diventato un meme che non possiamo farne a meno farite io non me ne verdo uno ormai quindi ci sarà qualcosa dietro live contenutistica questa era una live contenutistica di Patrice una rara live contenutistica quando domandi se minorenne ti risponde di ecco ma lui fa questo vabbè dove erano i beat e lui fa questo guarda lo sguardo viene a morte la morte cosa sto facendo nella mia vita io sono in questa qua live bastata non so se abbia raffinato le sue tecniche ma non credo visto che ha un'esperienza talmente infinita che penso che queste tecniche ormai siano sue fin dalla radice ma è dei maestri in generale loro si Gianluca è un fan ho visto una live quando l'ho visto rincore i ragazzi urlando scusa 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 sei maggiorenne con l'occhi sbarrati devo dire che non ce l'ho fatta ma io l'ho detto pure a lui ma com'è zero bit senza nessun problema era zero bit ma è letteralmente gratis ma come ma come si fa a donare zero bit no no aspetta scusa può essere gratis no te l'ho capito come è possibile zero bit come che senso zero bit no non so bit penso sub no è una cosa per mandare gli alert però vedi sound alert li guadagni penso coi punti punti rana queste cose da giovani ah ok ah poi io voglio vedere questa scenetta perché è molto divertente è un po' alla Paolo Cannone ok ma prima youtuber ruba 500.000 dollari i fan con una truffa compra una tesla e dà la colpa a chi c'è cascato un famoso youtuber ha truffato i propri fan e rubato ha rubato loro 500.000 dollari si è comprato una tesla con i soldi e dà la colpa a chi c'è cascato no ice poseidon e chi è greve è uno degli antesignani delle live earl goliardiche assurde americane greve ha fatto il colpaccio ha fatto era famoso perché ha una personalità molto forte un po' un pezzo di merda ecco uno che va a girare l'arrogante e allora è rimasto coerente diciamo con questo gesto un'ennesima bravata di ice poseidon greve però ice poseidon paul ice poseidon denino streamer su youtube ha truffato i propri fan per un totale di 500.000 dollari ha usato il denaro per comprare una tesla almeno pare magari è un grosso troll e una volta scoperta e accusata ha dato la colpa a chi c'è cascato il tutto è stato scoperto da un youtuber coffeezilla io pensavo fosse leo's way dovete sapere che ice poseidon era una star di twitch di successo soprattutto nel 2015 grazie ai suoi stream di old school runscape un gioco runscape runscape c2 c3 twitch lo ha però bannato più poche e alla fine nel 2017 ice poseidon è stato definitivamente allontanato dalla piattaforma dopo aver subito swatting mentre era su un aereo dell'american airlines e che si entra di swat su un aereo forse forse perché c'era quella moda anche vecchia su twitch che ti mandavano a swat però sull'aereo come cazzo infatti come cazzo è possibile vabbè prima immagino prima di essere in volo con i paracaduti aggrappati superman a swat con superman aprite vestiti di merda tipo pallotto la spuntana in volo capito in volo quello che sta streamando secondo alcune accuse però il tutto è stato organizzato dallo streamer insieme ai fan ok si è poi spostato su mix era la usura della piattaforma nel giugno 2020 e è passata a youtube ora coffeezilla ha svelato che aspoiseidon ha spinto i propri follower a investire in ai 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 sempre sti cazzo di coin cx coin una piattaforma fondata per fare donazioni in criptovalute mamma ha consigliato una cripto ma ricorda qualcosa o qualcosa che potrebbe accadere a breve ma chi lo sa rischio un cazzo rischio influencer che vi dicono investite in questa cripto ci sono ormai abbastanza dati e abbastanza fatti di cronaca per dire che meglio affidarsi ormai vabbè che ci guadagnano loro in primis penso sia fattuale e anche logico che le persone vengano truffate io un po' di preoccupazione ce l'ho ma non sapendo un cazzo dei bitcoin evito di metterci mano e basta non ha consigliato era la sua effettivamente io non mi ha spinto i propri follower a investire in era la sua peggio peggio mi sento se uno lo deve fare perché è spinto da un'altra persona che di conseguenza ce lavora io consiglierei di informarsi bene ma anche quella di Logan Paul mi pare che fosse creata da lui ed è sempre stato un fiasco quindi siamo alla seconda criptovaluta creata da uno youtuber o comunque streamer che si rivela uno scam che le creano senza un utilizzo perché alla fine non ci capisco tanto però ognuna c'ha un utilizzo queste qui sono tipo shitcoin veramente roba fatta per troll out truffa come i dogecoin o altre cose e soprattutto vi faccio questa domanda ma è legale però perché in effetti ho letto in chat vengono truffati legalmente che sembra un paradosso però forse non lo è non c'è regolamentazione forse non lo è decidi tu di investire io io faccio la mia cripto Cerbero coin ma regà investite è una truffa poi se va male però i sordi intanto arrivano intanto i sordi arrivano capito come funziona in teoria è quello il fatto cioè tu stai investendo in una cosa che non è che c'ha degli altri utilizzi ma perché la gente crede in te fratello io mi affido a te perché io io ti seguo e ti sostengo in tutto quello che fai sì sì quello sì poi sei te il pezzo di merda che la metti e dici regà io mi è andata male la gente si è fidata dell'ocampolla che non è che non è mai stato esperto in niente è un intrattenitore cioè nel senso non mi vado a fidare perché mi stai simpatico lì lui ha sfruttato i regazzini e sfruttano magari questi cavilli questa mancanza di regolamentazioni per scammare i regazzini regà ok che è il cavillo però c'è stiamo parlando di una cosa seria però vi faccio una domanda una persona insospettabile tipo Marco Chitano io a Marco Chitano affiderei veramente le chiavi del mio destino neanche della mia casa grazie troppo buono tipo se Marco aprisse una cripto chi non investirebbe cioè inquadriamolo per favore e non si vuole no no auto inquadriamolo cioè una persona del genere come fai a non fidate compro tutto compro tutto tutto dammi tutto con quel sorriso quel maledetto sorriso facciamo una cosa aspetta Marco mettiti bene bene dritto la Chitano coin ragazzi fate la Chitano coin questo è un marchio di garanzia così sapete che non verrete scammare no veramente sondaggio in chat allora chi investirebbe nella Chitano coin sondaggio moderatori un doblone però deve avere la forma di un doblone di pipirati un doblone ok la K coin K coin c'è una reputazione buona e la gente sa che se può affidare di te grazie per sabb ok deve essere quattro lettere no Kita coin a Kita coin a Kita coin Rubino fa la Ruby coin a Ruby coin a Sosie coin a Sosie coin fa Sosie coin Rubino so quattro lettere Sosie coin è bellissimo io faccio la io faccio la Dudu coin e beh certo tu quale fai non lo so io faccio la Depe coin ok tu vuoi fare la Rana coin la Rana coin allora la Davide la Depe io la Rana Asia coin la sapete in mezzo mia figlia per scambare la gente è proprio ragazzi dò il nome di mia figlia ci credo veramente dò il nome di mia figlia vi potete fidare di me guardate questa moneta la faccia della figlia la bambina mai messa sui social ma per questo non l'ho mai messa sui social però la metterò sul mio bitcoin così voi potete avere fiducia in me come terminare la tua carriera la carriera se fanno i soldi e poi scappo e via scam coin la scam coin la fit coin la fit coin comunque nell'arco di un solo paio di settimane però ha preso tutti i soldi 500.000 dollari e li ha spesi per una tesla secondo quanto è possibile capire dai suoi video a parte che quest'articolo mi sembra un po' generico comunque vabbè una volta che è stato scoperto e messo a confronto con i fatti ha esposato hanno affermato parte della responsabilità dei fan per aver investito così tante emozioni sulla cosa nessuno merita di essere derubato alle volte devi solo pensare a te stesso hanno investito emozioni perché tu ne hai parlato bene influenzandoli ha anche affermato che non è corretto definire tutta la situazione un furto bisogna capire se l'ha chiusa cioè se lui l'ha chiuso e si è rubato i soldi è greco ha poi affermato che potrebbe dare indietro i soldi ai fan potrebbe potrebbe se vuole ma di non volerlo fare perché deve pensare a se stesso è un provocatore lui dovete capire questa cosa magari l'ha fatto apposta per far un po' decacciare e poi rida indietro da quello che conosco io lui sta sempre inghimmichito per provocare per essere bad boy per romper cazzo quindi non lo so se pure qua sta a fare lo spaccone come suo solito magari li riterà indietro forse è una provocazione per dire non vi fidate sarebbe geniale guarda ti ho dato un'idea ti puoi fare al culo così rita indietro i soldi se ne hai spesi tutti e dice una provocazione per insegnarvi che non vi dovete fidare degli influencer se li rita tutti si eh si ah che ne so Rubino ah l'ho capita l'ho capita l'ho capita no io ho visto solo del labiale che si muoveva vabbè la puoi dì quello lo puoi dì la puoi dì la puoi dì un quadro no un rischio un rischio si esprima Rubino no no dì che è sono tre lettere sono tre lettere puoi dire la parola completa se lo dici in lingua italiana sono quattro va bene ok ok che dicevi la du duca coin duca coin la duca coin la duca coin ah si figo vabbè allora successivamente però ha cambiato idea attenzione è affermato di voler ridare 155 mila dollari vabbè l'artri ma Coffyzilla ha scoperto che anche questa in parte è una bugia perché lo streamer ha ridato solo 47 mila dollari eccolo Coffyzilla ma chi è sembrava tipo Ercole I don't know if you're aware of the fact that your average fan has way less money than you so you're just taking from poor people like you understand that right that is definitely not that is not a good way to put it that's a pretty shitty way to put it my dude it's I think it's a pretty shitty thing to do ah e lui è sto bambacione no è quello che ha risposto questo è Coffyzilla esatto quello che stava su Google Hangout gli ha fatto gli ha fatto l'obiezione ha detto tu cioè ogni creatore di contenuti infatti effettivamente è un po' un'obiezione del cazzo ogni creatore di contenuti sa che i propri fan hanno meno soldi di lui quindi essenzialmente tu stavi promuovendo uno scam delle persone che sapevi fossero più povere di te e lui ha risposto vabbè non ha molto senso gli ha detto è questo e lui cosa ah lui ha risposto così si quindi ha detto stai di un po' una cazzata si tratta di una situazione preoccupante ricordiamo di far sempre attenzione alle relazioni parasociali che si vanno a creare con il content creator essere un fan è una cosa dare fiducia uno sconosciuto con un passato lusco e un'altra vabbè diffidate ok Grambaud viene frenzonato da Martino no viene da ridere perché hanno scritto cazzata e Fabiola è la prova ok hai capito per cosa no no perché qui dice il ah perché abbiamo un passato lusco no perché lui dice il quello il fan ha meno soldi del creatore ah ha fatto ridere perché hanno detto cazzata ma pure Yangtzeo in realtà è tipo un investitore a Wall Street Yangtzeo i nostri fan wow vabbè Ice Poseidon però c'è l'Eisord vabbè sì ma perché è sbagliata greve qua siamo in Italia noi abbiamo un'altra schermata qui bisogna aggiornare NDA ragazzi bisogna fare come Zeb bisogna aprirsi ad un pubblico internazionale in teoria l'unico problema è che forse siete connessi wifi mi aprirò al mondo come Zeb ragazzi farò live solo in inglese no è sbarrato il wifi eccolo eccolo farò il mimo un attimo connessi al wifi un attimo di panico vediamo un po' allora vabbè Rubì faccia un'introduzione chi è questa ragazza allora questa ragazza è una ragazza che ha partecipato a un format con Simone si chiama Martina ok il format era guidato in cuffia Simone ah mazza Simone quando sta cosa vabbè Simone ci proverete perché rientra nei suoi gusti e calla io lo sape appena ho visto questa ragazza io non ho detto niente vediamo se la cosa si crea da sola o se sono io il problema ormai vedo che questa cosa è uscita fuori da me però spiega non è nei miei gusti mettiamola così secondo me è nei gusti secondo me è un po' nei gusti di tutti perché a quanto pare ha fatto innavonare mezzo web magari è molto intelligente sicuramente per quello da un fermo immagine sicuramente per quello e per l'aspetto lei è un sacco simpatica devo dire la verità cioè proprio simpatica però dico no io non ci ho mai parlato in privato vedendo anche la superficialità di chi guarda dico è aspetto oppure è così interessante da piacere a così tanti anche per cose anche entrambe le cose di primo impatto tu guardi sempre l'aspetto proprio di primo impatto però dico mi sono partecipato alla live ti è piaciuto a me e mezzo web e qua la domanda a me parte spontanea capendo è molto acqua e sapone molto tipo angelica per quanto riguarda l'aspetto e forse questo piace vabbè vabbè e poi mica una colpa bellezza ragazzi era per capire un attimo però è simpatica comunque è carina pure come ragazza ci ha parlato pure Max io entro solo per fare cioè io ho fatto la gag mia oh ciao Martina però non le hai chiesto se le piace prenderlo in bocca no perché non ero durante il format ah durante il format invece si è fatto per questo giusto era una domanda tecnica poi certe volte dipende dalla persona che c'è davanti perché se io magari capisco che la persona sta un po' così grazie grazie i pezzi grazie Alberto e vedi che in difficoltà se vedo che in difficoltà proprio io mi blocco un attimo infatti l'altra volta quando siamo entrati noi c'era una situazione un po' too much ma non per tanto per il tenere delle domande perché era tipo un po' erano te Max e l'altro e lei non rispondeva più che altro lei era gringiata eh sì no è che se lei ti dà là e vedi che scherza pure lei che c'è sta io già capisco quando la persona davanti a me sa scherzare in quel modo alcune no l'ultima ragazza diciamo che non era proprio in quello stile era un po' timido sì no alle volte stavo un po' sulla cosa eh questa cosa te la devo fare io tu no cioè sai quello è un po' non voglio di capuzza sotto al naso però grazie Alberto grazie Alberto e ci ha scritto pure un messaggio allora il messaggio è domanda per Gitano quando avvio il pc devo sempre staccare riattaccare il cavo display display ma è una cazzata grazie grazie per i dieci grazie noi però c'avevamo uno splitter era lì il problema non ci dovresti avere questi problemi in teoria ma che vuol dire display poi è quello del monitor mi sembra più una domanda troll che altro sì perché noi ce l'avevamo attaccati a uno splitter e ci dava questo problema e impazzivamo ma solo il cavo di displayport ma che vuol dire infatti solo un cavo di displayport dovrebbe da per bene ci penseremo io e Rubino a risolvere l'anul script è un tecnico che è meglio grazie comunque per i dieci regalati d'argentamico ma amico di chi eh bella domanda è vero allora vediamo questa scena un po' baolo moment ok la chat smettetela subito di scrivere nascain te vorresti che entra così per chiedere ma in biffare che cazzo sto facendo volevo soltare il volume ho fatto tutto da solo è il mech è il mech ho fatto tutto da solo no so io sto scemo io vero nel senso che se sta ok cioè sono felice se non sta non succede non ho capito una parola se sta sono felice se non ci sta uguale Diego Nasca non so come spiegartelo Martina tu sei una ragazza sincera credo di sì ok quali sono le cioè quando tu dici una bugia di solito che cos'è che fai per dire una bugia non lo so non dico non sono solita dire le bugie e poi cioè non sono io che mi analizzo per capire quando ho una bugia cioè non so cosa faccio Martina ma è pugliese? sì sì lo è pugliese ad intuito proprio vabbè io a volte faccio fatica a capire gli accenti mi sto allenando mi sto allenando a capire gli accenti non lo so non mi ricordo se è pugliese o da basilicata 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 allora mi sono sbagliato grazie per i mille Young investire a sdrubare che è che ci ha scritto ma sei esperti però in chat Matera esperti ma è vero di Matera codice postale misure tutti i zagagnoli codice fiscale Young Seo ci scrive che fate un po' tutti i cognomi zagagnoli è vero assomiglia a Spider Gwen come maggior investitore della sdrubarini SRL gradirei un biglietto per i Boscar sotto banco beh no oddio in realtà si potrebbe pure regalare un biglietto ai Boscar a Young Seo effettivamente a Fabiolone Young Seo allora se vogliono venire i top se vogliono venire i top supporter della storia del Cerbero il biglietto assicurato sì scriveteci per me il minimo perché ci supporta così tanto ragazzi è il minimo avere le porte aperte a nostri eventi controlleremo chi so i primi 5 tipo lo vedete il biglietto di entrata omaggio è il minimo beh sì dai c'è sta biglietto fisico ok 42 piede un po' too much vabbè andiamo avanti in linea generale come dire tu mattina dell'anna nata a Matera il bla bla 2 2 nel senso breve calcolo mentale ragazzi tutti insieme 11 anni 20 anni massimo generale meglio stiamo nel 2022 20 anni massimo sicuramente ancora 19 tu dubbi è grande è grande avviene solo nella mia mente che quando una ragazza dice l'anno di nascita subito dai 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 sono l'unico vero Rubino sì sono l'unico al mondo sì ok mi prendo questa responsabilità sicuramente sì sì ok vabbè siete tutti puri in chat no io sono un porco eh lo dico sempre con una casa dipende non lo so ma perché non vi conosco fondamentalmente ok diciamo per quello che hai potuto conoscere in queste settimane di live di corrispondenze private se ne hai avute sto pensando cioè sto pensando a caratteristiche un bel ritmo comunque allora io eviterò di fare battute su grembo mica perché su grembo no no sulle sue live basta proprio basta da aspo da aspo alle battute su grembo perché poi si arrabbia dicevo quell'ukulele sotto aveva un bel ritmo quello sì eh ma c'è sta infatti quello c'è sta se toccerebbe regà mettere così quei strumenti bello bello faccio l'ukule è calla la 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 we bleep da da bo bo la bo bo ba zun bu sta da da ba be la be la la oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes Senti Gianluca puoi andare avanti Per altri dieci minuti Cascato a cura Il pletro Il pletro Il pletro è quello che suona la chitarra Vabbè lascia Bravo Gianluca Andiamo avanti con dieci minuti di content Così è sicuramente meglio Anche se Devo dire che questi silenzi Devo essere sincero Questi silenzi aumentano il cringe Quindi ci sta E' anche voluto secondo me Certo Posso dire una cosa a Celia Certo Ok come mai questo Mettere Jody nel cestino Perché alla fine Con Jody ho parlato poco E quindi l'ho inquadrato di meno Rispetto a voi E quindi non ti saprei dare una Una risposta Matilde Grazie per il bit Prima volta in chat Mille bits Ammazza Grazie Grazie Matilde Grazie per il bit Cazzo No non è Matilde No non è Matilde Matti del 1990 Ma comunque è vero Noi siamo con schermo lontano Ma secondo te Una ragazza Può donare mille bits A noi C'è una che si chiama Matilde E che palesemente non è da fregna tonica Esatto Tipo quella del collegio Vero Davide Ma io pensavo fosse lei L'ultima Matilde che hai conosciuto Ho letto Primo messaggio Mille bits Però sì Però sì No non è possibile Mi ero illuso per un attimo Una ragazza ha speso Suoi soldi Grazie Matti Non è possibile Grazie mille Non passa il primo messaggio I bits Quindi significa che non ha ancora scritto lui Ha solo donato i bits Top Questo è un approccio corretto Secondo me Uno che guarda la live Sitto e dona Capito In maniera proprio silenziosa Dici che sto lì Capito Sgancia la ganja Risparmi i soldi Grazie Matti Due nomi Eh sì perché Cioè comunque c'è una conoscenza Superficiale Cioè non Io lo so lei si chiama Matilde Cosa si basa nel giudizio Sì Ok Se dovessi andare un po' più a fondo Di questo giudizio E scavare in questi due nomi Che tipo di scelta faresti? Non lo so Forse Boh perché allora Da un lato Per esempio C'è Diego Però Mi sembra più Aspetta il momento Ti dico Per scena Capito Cioè Più scena Lo fa un po' Per scena Capito E quindi Vabbè Non so Non so il termine Dall'altro lato In un poliedro Diciamo che Ci sono più di Un lato Sennò sarebbe una linea Allora Cioè Dall'altro lato Tu Però Non so Non ti conosco bene Però Nel senso È carino Parlarci Nel senso Non sono Non sono a disagio E quindi Questa è una cosa positiva E quindi Mi baso un po' Su quello Però Non mi sento a disagio Neanche con Diego Cioè Ma in realtà Non mi sento a disagio Neanche con Diego Cioè Ma in realtà Non mi sento a disagio Neanche con Diego Ma no Non ci sono mai trovati La storia a parlare In realtà Ehm Quindi Ti avrei messo una scoreggia Se va a scopannasca Questa è la domanda fondamentale Scusate A me mi frega un cazzo Vabbè chiedo Qua c'è Qua c'è la parte cardine Proprio La parte cardinale Claudio Mazza Ehm Quindi Nel senso Da quello che hai detto Comunque È possibile E vincere Che Ehm No Devo farlo ancora È possibile E vincere Che Ehm Noi potremmo essere Degli ottimi amici Sì Ok Quanto odio Sti momenti Io proprio Una vita reale Qua è fatta apposta Per lo show E ci sta Ci sta Ma io proprio Una vita reale È tipo il cringe humor Sì Il cringe studiato Diciamo Ma fa bene Lui quando fa Sti momenti In realtà A me piace molto Sì anche a me Devo essere onesto Era grembo Vecchio stile Sì sì A me quando fa Sti momenti qua Lui Mi piace un sacco C'è là C'è là E bravo Bravo Tipo cringe master Sì Sì In realtà È palese Perché gliel'ha proprio servita Riccardo Grazie Riccardo Le ha servito Sul piatto d'argento La Licky La free hand zone Cioè Dammi la free hand zone Proprio Sì sì Palese Cioè magari Anche tu Quello Qui Lo fai per scena E non sei simpatico Sei scontuoso Certo Quindi Comunque diciamo Che la mia La mia anima Oscilla Vertiginosamente Tra Il non essere nulla Ed essere un grande amico Comunque Ok Ci sta Ma Io ho Ho un grande feeling Con le amicizie Cazzo Ho un grande feeling Con le amicizie No ma butta sulla scuola Amicizia Se non mi fa ridere Butta sulla scuola Sulla scuola amicizia O chiamo Gli faccio i complimi Ho un grande feeling Con le amicizie E' bello Ci sta Ci sta E' essere interessante Quindi Tanto ci vedremo E' andata pure bene Allora Rubino Voglio fare una domanda a Rubino Sulla base di questo Servivo per una riflessione più ampia Stenderò anche a voi A che è servito vedere questa cosa A parte per allungare la live Partire di quello No In realtà Grazie alla mia intuizione assoluta E capacità di improvvisazione Volevo chiedervi ragazzi Tutto preparato Nella vostra vita In che modo avete deragliato Una situazione del genere Tipo Ragazza che vi sta per lasciare Lo intuite La lasciate prima voi Oppure Ragazza Frenzon Ma in realtà La stunnate prima voi Per non fare la figura del merda Rubino No in realtà Allora Sarà capitato Eeeh Allora Quando capisco Cioè io vado molto diretto Cioè se Se voglio una cosa Io Piuttosto che Prende la in giro E fargli credere Chissà che Maria Monti Dico Guarda per me È così Poi Mi è successo Che Ho detto a una ragazza Guarda io te vedo In una determinata maniera E poi ho detto Eh Però è solo un pensiero Il mio Maolo trombazzo No aspetta Ricostruiscime bene la scena Allora Tu cosa hai detto a lei Allora Tu mi hai detto Ti vedo come una scopata No 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 Contesto prima Sono diretto Contesto dove ci troviamo Il contesto ci troviamo Questa ragazza Un principe No 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 Allora io E questa ragazza No allora noi Abbiamo cominciato a parlare Ma dove questo Per strada In una casa No ma Allora Parlavamo già fuori E poi Abbiamo parlato al cellulare Ok E poi lei Ci ha avuto uno Io ci ho avuto una E niente Praticamente Poi se siamo risentiti Ti ho detto Guarda io Ci ho sempre avuto Sto pensiero Su Dede Però non mi ha nata Dittelo Però adesso Me ne frega un cazzo Perché eravate fidanzati Esatto Me frega Me frega un cazzo E Mi ha detto No hai fatto bene A dirmelo Io già dentro di me Ho detto dai Ok Però Va Però Siccome Siamo sempre stati amici Può rimanere solo un pensiero E io sì certo È normale È davvero così L'ho detto proprio per questo Sì L'ho detto proprio così Io ho detto per questo In amicizia In realtà no Però vabbè Ok Lì Che devi fare Ti devi farà Cioè A te mi è capitato Simo? Onestamente no Cioè Questa cosa di lasciare Una persona prima Perché pensi Che ti sta per lasciare Lei no A Simo Oppure Oppure Se il contrario Simone Dillo la verità Dillo Dillo pubblicamente L'ho detto pure a Cerbero qui Che quella è una cogliona Che mi ha Che sei dimenticata L'appuntamento No Mamma mia Quando l'hai detto? L'ho detto a Lupus Allora io a Simone Io ho detto Simo mi dai il tuo Che mi hai dato Tinder Tinder Allora ho detto Simo io oggi Ti rimedio Una ragazza Per parlare È meglio dei play over a Cade Io l'ho detto Ho ceduto Il mio telefono A Rubino Di la verità però Sì sì Con estrema fiducia Che è stata ripagata Che cosa hai fatto Rubino Io ho creato Quella sera L'appuntamento per Simone Gli ha scritta una Ciao Tutte cose E alla fine C'avevo un aperitivo Sabato pomeriggio Sì Poi io ho dato il telefono E la situazione è morta Quella due giorni Questo è successo La situazione è morta La situazione è morta In effetti è vero Non so come è andata Io non so Io questa cosa Non me la ricordo Ma quando era Sto avvenimento? Può essere durante Un viaggio In treno Mercoledì scorso Accanto a login E questa cosa È avvenuta mercoledì Ci dobbiamo vedere sabato Io ho aspettato venerdì Per riscriverle Il giorno prima Allora domani Insomma Do se vediamo E qua io sto in questa zona Ah no scusa Mi sono dimenticata Quindi io là Mi sono offeso Perché te la dovevi senti prima Cioè un po' più Non è mercoledì stesso Non c'ho la testa Allora è stato un lavoro inutile Eh lo so Mi dispiace Scusa Tu come avresti proseguito? Tipo il giorno prima Io gli avrei riscritto Il giorno prima O due giorni prima Per capire Un giorno cucciola No no Un giorno No senza cucciola A me frega in casa Eh Gli avrei riscritto Già un po' Il giorno prima Per fargli ricordare la cosa Capito? Eh Comunque Eh No farla sentire al sicuro Però Eh Offrgli Fargli capire Che comunque Dai ci vediamo domani Sono contento Cioè io così Faccio Poi vabbè Io ho dato la volta La fama a Simone Io comunque Gli avrei dovuto spiegare a lei Che ha parlato esclusivamente Corubino Capito? Prima di vedersi Ma no ma lo sto a fa petteglie Dice parla con me Eh No gliel'avrei detto Se l'avessi vista Ok C'avevo paura Che gliel'avessi scritto Vabbè avrebbe fatto rita Ma per Cioè Per iniziare una relazione Con l'onestà Comunque Rubino Hai parlato con Rubino Fino a Relazione Solo scopà Perché io gli ho detto Io gli ho detto Mo dico Fatto no Perché certo Che la vita è una Eh Bisogna Prendere L'attimo Non voglio cose serie Lei ha risposto Neanche io Questo periodo La gente si vuole Troppo fidanzare Ottimo Ottimo Sì sì Ha dato tutti i segnali Che vola a scopà Scopata secca Io quando ho preso Il primo input Il secondo e il terzo Ho detto ok A posto Vai Simo Non lo so Quando si è dimenticata di me Mi è scesa Non lo so È spenta la luce Frate Che te devo dire Si è dimenticata di me Si è dimenticata di me Si è che ti ha dato buca Però non è che Ma sei non sconosciuto No perché lei aveva Il mio Instagram Potrebbe vedere Tutte le mie doti Tutte le mie peripezie Forse è proprio Per quello che ti ha fatto Ma è per quello Ma non è la prima volta Avrà visto qualche clip Del Cerbero Tipo Ducci Ducci Ma meglio così C'è la maschera De Scream Ovviamente meglio così Tanto non si scappa Se sarà vista Le foto dei Tinder Tutto figo C'è la sigaretta Quanto l'ho visto Ogni sogno erotico Frantumato Ma Simone L'avrebbe rifiutata Proprio per questo Perché una donna Che non sa essere eronica Non può essere eccitante Per te Esatto Voglio una Vedale le mie foto da figo Diciamo carino Poi vede Quelle cose di Scream E si bagna completamente Ma questa cosa è già successa È la seconda volta Che ti do una mano E è la seconda volta Che succede questo Quando era la prima volta? Porco Giuda Stavamo dentro A quel cazzo di pub Vado da due ragazze Ci incomincio a parlare Aveva uscì il giorno dopo Ve lo giuro Il giorno dopo Era Grazie Era fatta Arriva Simone Vicino a questa Sì mi ricordo Rubì Sta cosa è vecchia Di cinquanti Magari inizi E qua A sei anni quasi 2016 2016 E l'ho fatto Scusate Era una delle prime volte Che uscivamo Tutti e tre insieme Ti posso dire la verità Dopo sei anni Erano dei buste Ma che busta Io ci ho salvati Ma quale busta Di incazzate Ma quale buste E dillo da ubriaco Guarda Devo essere onesto Perché C'ho un'ottima memoria Ah c'eri pure te Sì eravamo Uno, due, tre E queste tre Il terzo punto di vista Era un tre e tre Dopo Kurosawa Io mi ricordo Che ce n'era Una corpulenta Una piccoletta Ma che una corpulenta Ma non c'era C'era una corpulenta Erano tre C'era una corpulenta De qua Sulla destra Una al centro Di medie fattezze E una piccoletta Tipo tre Una scala Allora Prima che Gianluca riveli Il terzo punto di vista Ergo quello corretto Come nel film De Ridley Scott The Last Duel Sondaggio in chat Buste o fighe Io devo essere onesto Però sarà onesto Aspetta aspetta Prima sondaggio Prima sondaggio Ma stava in frigo Sarà pure fresco Stava in frigo Ma ragazzi Chi si ricorda Il film con Jack Black In cui lui A un certo punto Vedeva al contrario Le tipe Tipo le fighe Erano dei cessi Amore a prima svista Io mi ricordo Che la premessa Era che lui vedeva La bellezza interiore Sì Infatti le fighe Erano dei cessi Alcune erano uguali Perché erano Sia carine Che interiormente Invece quella La protagonista femminile Era corpulenta Diciamo Lui la vedeva Come una modella Era esatto Ma corpulenta In che senso Era leggermente in carne Obesa Proprio 400 kg Mi ricordo delle scene Bellissime di queste Che ballavano in discoteca Che erano tipo Delle balene Computer grafica Computer grafica CGI E lui le vedeva Come delle top Modelle assolute Mazzamara Davide Ma erano Dell'attrici vere Quelle No 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 Era Guilherme Paltrow Modificata Con la CGI Un'offesa gravissima Perché due su quattro Non ci sono più C'aveva una Fetsuit Comunque Tipo quelle Non era CGI Ah è vero Infatti era vecchio Il film Non poteva essere CGI Era un vestito Ingrassante E comunque Quel film Ho visto anche Recentemente Che è stato blastato Politicamente corretto Diciamo Per la grassofobia Io lo vedo Da dieci anni Credo E quanti anni fa No è tipo del 2000 È vecchio È vecchio Non proprio 2000 Le cose del 2000 Sono quasi invecchiate Credo di averlo mai visto In maniera intera Credo di aver visto Le pubblicità in tv Tipo anni e anni fa E aver magari Visto un pezzetto Perché me lo ricordo Ma sempre in tv Quando eravamo Più piccoli Che si vedeva La madre della televisione Insomma Quegli anni Ma che stai a fare Rubì? Non ho una foto Ti fattere Che stai al cerbero Il cazzo Ah Rubì Devi fare come salvo Ce la puoi fare a vedere Il selfie che hai mandato Alla diva Per curiosità C'è la tattica salvo Dei Rubì? Ce l'hai? Come stai live? No no La foto proprio La foto Eh la foto che ho fatto adesso Eh E fa la vita a Marco Bello Dai Rubì Non pina Si innamorerà questa ragazza Allora Il sondaggio È stato vinto da buste 65% La verità Allora Io me lo ricordo molto bene Una Era carina Le altre due Le altre due Non mi piacevano Ma c'era quella corpulenta Quella media Quella piccola Ma le corpulenta c'era Sì Io Mi ricordo C'erano tutte il vestitino Io mi ricordo Che tra i tre C'è stata una Che era un po' Nastronave No 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 ma scusate ragazzi Qua è importante Quantifichiamo Ma non saprei di capito Nastronave Corpulenta Allora cosa vuol dire Più di 70 kg Più di 80 kg Ti direi Giunonica Sì Giunonica però Non vuol dire corpulenta Problemi alla tiroide Ma non vuol dire Per forza corpulenta Non è detto Quel tipo di corporatura Che pare un tronco Un tronco Un tronco Con le braccia e le gambe Questo sta Andriaco Fracico Se lo ricorda L'enterprise Un tronco Diciamo la tipologia Ossagrosse Ossagrosse Con le ossa grosse No però non è così Come dice Gianluca E te te lo ricordi Magari era formosa Ma no Gianluca Non solo ricorda Ma com'era Ma che se ricorda E' stato tipo Ma non è vero No 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 Stava vicino a me Ma che cazzo Stava tipo ricorda De mo' ero io Quello ubriaco Ma che cazzo dici Ma stava una favola Ma me lo ricordo perfettamente No eravamo tutti Ero messo seduto Ero messo seduto Onde me l'ho ordinato Un chinotto Ma me l'ho ordinato Un chinotto Un chinotto Un chinotto Un chinotto neri Io quella sera Mi lo ricordo perfettamente Io non c'ero Ma ho dei seri dubbi Si è andata così Devo dire Marco quando è invece Che tu hai deragliato Una situazione simile Devo dire Non mi è mai capitato Manca a me Cioè mi è capitato De salvamme Che da ragazzino Mi stavano a lasciare Con una ragazza E sto riuscito Un po' a salvare La situazione Cioè avevo capito Che forse mi voleva lasciare Ma eravamo piccoli C'eravamo 13 anni Ok Non mi ricordo manco Però avevo mezzo capito Ho cercato di poter Sviare il discorso Guadagnando tre giorni Allora a me è successo La distraere A me è successo A me è successo In quel di Prati Nella palestra Dove ho conosciuto Il buon Parenzo C'era una ragazza Interessante Abbastanza grandicella Quasi 40 anni Forse un po' o meno 37 Così no Vabbè io La seguivo Perché stavo spesso in sala Molto simpatica Così cos'ha Ma tipo per 4-5 mesi Parlavamo Così niente Poi stiamo picciato Mi sono lasciato questa Un giorno lei me fa Alleniamoci insieme Io non ero in turno Facciamo le gambe Vabbè Famo squat Tranquilli Andiamoci a fare una sauna Perché in quella palestra Molto lussosa Ovviamente per il buon Parenzo C'era anche la parte sauna Condivisa Attenzione Bello Quindi mi dice Andiamo là Lo prendo come un invito Andiamo là Cominciamo a chiacchierare Io a quel punto dico Beh questa Mi spoglio Ma scopo Sì Poi praticamente Vabbè Stavamo in costume Ovviamente Dentro la sala Diciamo sauna Che era un po' Chiusa Poi non è molto trafficata Quella palestra Quindi non c'era molta gente A un certo punto Mi abbasso il costume E tiro fuori il cazzo E io mi convocco E fu così che smisi Di fare il personal trainer E cominciai a condurre il cerbero Beh si guarda Che personal trainer Potresti spacciare Come una nuova cosa tua Nel senso Ti scopo a 90 in sauna Può essere Un esercizio Ma c'è il senso Ti è visto come Un esercizio Per la galera Tu eserciti La tua attività A me è successo Di chiamare in sauna In un'altra palestra Però A Parioli Anni prima W Parioli W Sì W Parioli Questa era W Prati Cioè nella sauna O poco fuori la sauna A caldo ma L'avevo spenta Appositamente Perché era una domenica pomeriggio E la palestra Era completamente vuota W Specifichiamo W Parioli Ti hai fatto proprio Un W Sborratine Invece in questo caso No Sono serio Vabbè cominciamo a chiacchierare A un certo punto Io dico ok Questa Sembra Comunque propensa Sì Poi in realtà Dai suoi discorsi Comincio a capire Che in realtà Mi vedevo un po' Come un suo amico gay Probabilmente Perché mi comincio a raccontare Di questo ragazzo Che le piace Che le piaceva Ai tempi All'arma e rosso A quel punto Io ho interpretato totalmente La parte del gay Proprio Ti ho fatto una tessana Sì sì Seconda me Seconda me Perché agli uomini Piacciono quelle Comunque più dirette Capita E quindi I miei sogni Di sesso violento All'interno della sauna Sono andati Completamente infranti E perché è andata Nella sauna con te Così veramente Per amicizia Sì Le stavo molto simpatico Ammazzo Mi stimava come istruttore Ma pensate Ma secondo me ci sta Una storia al mondo Di una Che Passa con te Che ne so Giornate Ti guarda Ride Esce a cena con te Poi vai a bere insieme Poi viene a casa Con te volentieri Poi si mette a letto Con te volentieri Ti guarda Ti sorride Ma non te la dà Sì La mia madre Facciamo Mi madre Etero Come dicono quelle Cioè è un'amica Quella che non Sì però È un'amica Allora Ma io non perdo tempo Non mi interessa La vita è una E va goduta Ma tu la butteresti fuori dal letto Gli butteresti le valigie fuori dalla porta Spattendola Che cosa faresti Me ne vado Cioè se io ti metto in chiaro la situazione Noi possiamo essere pure amici speciali Però me ne vado No me ne vado Me ne vado Possiamo essere amici speciali Con me Se no io me ne vado A meno che decido io Che te vuoi essere amica mia Amici speciali Amici speciali Ma invece un'amica Con la quale ti confidi Ora Rubi Tu sei consapevole Che se dici Che vai a letto Con una tua Amica speciale Molto probabilmente Potresti Incombere In problemi Perché? Perché è speciale Ma che cazzo dici? Grazie Vabbè Mi ha capito Mi ha ricordato Montanini Però Chissà sa Scomparso Gianluca In un attimo Sta morendo Io non ho retto Vabbè Quindi Rubino Cosa stai cercando In questo momento Nel gentil sesso In questo momento Della tua vita? Ma in realtà Nessun rapporto serio Non mi interessa Mi diverto E mi concentro totalmente Sul lavoro Un buco? Mi concentro totalmente Sul lavoro Poi se capita Che Se capita Da scopare Io arrivo In fondo Il mirino Non è nient'altro Che un buco Vabbè Dipende Quale buco Scegli Bravi Avete capito Dimmi la tabellina Nel 3 Scema Vabbè Voglio per la Circo Di mano A tabellina Nel 3 Scema Ragazzi È bannabile È un po' bannabile Il mio humor In questo momento Allora Rubino Ti faccio questa domanda Sei d'accordo Con la frase Contenuta nel film Erri di Presento Selli L'uomo Non può mai essere Veramente Amico Di una donna Perché Vuole scoparsela Comunque Anche se è brutta No Perché Ad esempio O dico L'ho già detto Ti faccio un esempio Lampante Per me Gaia Clerici È un'amica E Ma chi te crede Rubì No te giuro Ti giuro Ti giuro Ti giuro Io Lei la vedo Proprio tipo La vedi La vedi La vedi La vedi La vedi Escono l'occhio Le fuori dai orbite Come Jim Carrey In The Mask La prima L'ho letto Il lupo Ma sei amica Per tua decisione O per decisione Di lei Ma non è il fatto Il fatto che Ottima domanda Vabbè Scusa No ti dico A me A me Chi è eccita No Vabbè ci può stare Sono sincero A me Gaia Clerici La vedo come Un'amica Una sorella Visto che io Ho molta confidenza Con Gaia Che siamo amici Da una vita Se lei Si spogliasse Davanti a te Dicendoti Posso prendertelo In bocca Virgola Rubino David John Rubino Punto interrogativo Rubino lo rifiuta Cosa risponderesti? Ma Già a mano Non è no 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 Ce sta a pensare Ma Non lo so Perché Io ti dico la verità Eh di maverità Non stai a dire la verità Te giuro Ma piace a tutti Gaia A tutti piace Gaia A te Non esageriamo Insomma È una bravissima ragazza No Ti dico Non lo so Però ti dico no Perché io la vedo troppo Come un'amica Cioè Non Non me Allora A me quando mi piace una Per arrivare al punto De scopare C'è deve essere un qualcosa Che mi fa tiltà dentro Cioè c'è deve essere un qualcosa Che anche se lei parla Mi eccita Capito? No Ci sta E quindi Non Conoscendola Non c'è quel qualcosa Ma perché io voglio proprio bene Sì sì No vabbè ci sta Non ti eccita Non ti crede comunque nessuno Non ti crede nessuno Però è vero Noi siamo Ovviamente ci stiamo dipingendo Come dei mostri Però ci sta Cioè nel senso C'è il rapporto da tanti anni A me per esempio Capita con Giulia Cioè ormai la conosco talmente bene È una sorella praticamente Non c'ho proprio eccitazione Verso lei E lei è una bella ragazza È una bellissima ragazza Cioè io Ti crede nessuno Davide Sono quelle cose per cui Non ti crede nessuno Ma no Sì ci stanno La conosco da tanti Sono le cose che si creano Secondo me Io l'ho detto No te l'ho detto pure a te In macchina sta cosa Però te caglia Se ti ricordi Sì Questa cosa l'ho sempre detta Io Mi ricordo una cosa No ma in realtà Ci può stare Perché non dipende Strettamente dalla bellezza Ragazzi C'è stanno alcune Che magari Uno può dire Sono bruttine Però te eccitano Te fanno salire un porco Però secondo me Molte volte Magari so cose che nascono O quando una Prende l'informazione Che quella ragazza Magari Che ne so È una che non te la darebbe mai Per motivi De motivi X Oppure quando vedi Che da parte sua Verso le te Non ci sarà mai interesse Le solito La diramazione è questa Che uno magari nasce Con la speranza Poi diventa Un'amica Per un altro motivo Non è che è sempre Stato così La volta che non arriva All'uva Sì anche Però per non perdere Magari quella persona Ripieghi Che è brutto Di così Però tecnicamente lo è Se uno parte Da una situazione Di interesse sessuale Grazie Ripiega In un'amicizia Io non ci credo Quando sento No Non ce la faccio Perché magari sai Che è uno scenario Che al 100% Non si manifesta Ma io non lo dico a te Te lo sto Non conoscendola E magari Vedendo Vedendo Magari delle foto Che sei fatici Porco Dici Poi però Quando la conosci Quando apre bocca Dici Cambia tutto No Quando Comunque ci parli Ci parli In un determinato modo Che confronti con lei Su determinati argomenti Ma c'è stato E scende la voglia sessuale No ma nel tuo caso Io l'ho capito Però il mio Discorso Secondo me Rimane Per la maggior parte Dei casi Infatti attenzione Io non vi sto dicendo Che non riuscirei A trombarmela Giulia Attenzione Dico che non mi vengono Pensieri sessuali Su di lei Non Giulia Pastorella Lei ma la scoprei come Solo che ha appena avuto Una figlia No Vabbè Avete due cose Che Abbiamo una cosa in comune No Giulia Pastorella Per me è bellissima Per me è proprio Una top donna alfa Super affascinante Sì Devo essere sincero Simone invece c'è Checaflò Eh beh Lei però è fidanzata Con Valerio Certo Che amiamo allo stesso modo No che ricordiamo È un tributario Quindi non lo voglio Far arrabbiare Gianluca Devo farvi questa confessione Ma tutti abbiamo Una crush sul web Sì Anche più di una Rubì qual è la tua crush Boo Ma com'è Boo Lo sai che poi Io ci dovrei pensare Non saprei di Qual è la mia crush No posso dirvi Che ho parlato Prima con Checaflò Ne parlavo prima Con Checaflò E mi ha detto Certo che i vostri followers Sono un po' volubili Perché Perché prima Mi consideravano un cesso Adesso sono diventata Sessualmente arrapante Ma sono sempre uguale Così mi ha detto È migliorata la videocamera Sì Ho cambiato camera Che ne so Ma pure perché È entrata come villain E quindi uno Era più predisposto A odiarla All'inizio Se può di niente È una bella ragazza Intelligente Cioè Valle così Molte volte Anche il carisma Ripeto Pure nel caso di Giulia Pastore Eramo battute a parte Per me è una donna Molto affascinante Ma se non fosse Se non avesse quel cervello Non la reputerei così affascinante Poi siamo entrati in sintonia Quindi l'hanno vista Anche in un contesto Sempre più tranquillo E amichevole All'inizio No Sì sì Il dialogare con una persona Fa tanto eh Vabbè Oh Carca puttana L'80 Se non l'85 Non l'90% Pino cosa ne pensi di Violet Dicono Per me una può essere bella Quanto gli pare Però Posso dire che a me non piace Oppure vengo considerato cattivo Se dico questa cosa Ma guarda Davide In questo caso I I cattivi Sarebbero in due A me sopra C A me Anche a me non piace Violet Per quanto me sta simpatica Bravissima ragazza Per carità Non è per motivo X Io parlo solo In base all'estetica Non è Per niente il mio tipo Anzi su alcune cose Per me È antisessuale Ma posso farti una domanda Gianluca Quando guarda il Napoli Posso farti una domanda Visto che sei molto onesto Sì Perché allora da 14 mesi Fai l'abbonamento A questo canale Ah è vero perché Dal Cerbero Podcast Con la tua carta Eh esatto Volevo proprio sbucciardarti In live La sostieni come Content Creator Guarda Io ho anche Aperto un Growfoundman Un Growfoundman Ho aperto anche Un Growfoundman E tutto solo Vorrei fargli conoscere I calciatori del Napoli Perché veramente Sì me di credo Ho visto un paio di live Una fan accanita Tu non sai lei Che è ultras Quindi Sì Io ci tengo molto A Violet In questo Ma nulla Che riguarda La sfera sessuale Sono il suo Amico gay Ok Ok Beh ragazzi Direi che dopo Tutto questo Possiamo salutarvi E ci vediamo domani Alle 15 Con la top live Grazie mille a Rubinone Sempre un piacere per noi Averti qui Stai carico Pessi Bosca Rubì Spaccamo tutto Quest'anno Mamma mia Stanno in delirio Intanto pensa a una canzone Che vuoi cantare Che non hai mai cantato Mai proprio Ebbè Una cosa che sorprenderà tutti Ma scriviamola Ma scriviamola La vogliamo fatta Una canzone Ma scrive Simone No Io proverei questo Rubino Però non so se Perché io sogno Però poi mi devo rivolgere A chi ne sa veramente qualcosa Cioè tu dubbi È fattibile attualmente Preparare una canzone insieme Ma anche insieme Chi si vuole unire Grazie Pensavo We are the world Rubino Te compreso Da presentare ai Bosca Io vorrei fare una canzone ai Bosca Ragazzi Vorrei cantare un inedito ai Bosca Poi io sono malato Queste cose Insieme Sarebbe pure figo Così anche Capito C'è anche il motivo La cosa Sembra una cazzata Ma io appena Prima dei Bosca Io mi sono svegliato Tipo la mattina Mi sono messo a provare Pure sa la sua canzone Però c'ho sempre la paura Che me la scordo Mi sono messo a provare la mattina Poi ho visto giravo Nervoso Perché deve essere precisa Cioè C'è stato tutto il giorno Mi ricordo Eh Questo stronzo Mi faceva sbagliare Con i tempi I Bosca Sono il primo aprile Facciamo i controcanti Rubini Molto facile Pesce d'aprile Vi ricordate E via Pesce d'aprile Pesce di rubino E via Comunque sì Sarebbe tutto fighissimo La situazione attuale È che stiamo stilando Cioè Dobbiamo stilare Prima il canovaccio Dei Bosca E susseguentemente Anche la scaletta musicale Con tutti gli stacchi E anche le canzoni Che canteranno i vari ospiti Sì stiamo aspettando La chiusura delle votazioni Per gli ultimi ospiti Per ora il grosso è questo Poi se in mezzo Ci vogliamo infilare Un pezzo originale È un bel lavoro È una cosa semplice Che si fa così Quindi se c'è una buona idea Perché no Volentieri Dai dai Beh ragazzi Grazie mille Ci vediamo domani Alle ore che mi fichiamo Ciao 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 No green squali Stati arrivà E no Crosshack Questa nuova Sessione Dopo qualsiasi Spedreno Mi sembra assurdo State pure registrati